Fa sempre discutere la condizione di libertà in cui si trovava Sergio Palumbo il 2 settembre scorso, quando di notte fermò l'auto condotta da una giovane donna, la quale sola stava tornando con i resti della torta sul sedile dopo una festa di compleanno a casa di amici. Riuscì a fermarla mettendosi al centro della carreggiata e fingendo disperato di aver bisogno di aiuto. Quindi la sequenza è impressionante delle violenze con rapine e minacce di morte affinché la vittima non denunciasse. Palumbo è pregiudicato, già arrestato e condannato per una serie di furti in alcune villetti a scoglitti, usufruì in tale processo del beneficio della sospensione condizionale della pena. Eppure questo precedente non gli impedì di trascorrere solo pochi mesi ai domiciliari e di essere rimesso in libertà dopo la sentenza di condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione per la violenza sessuale, anche quella con rapina, compiute in modo quasi analogo lo scorso anno. Palumbo, quindi dopo la convalida del fermo, scontato alla luce degli elementi di prova schiaccianti raccolti dalla polizia, è stato trasferito nel calcere calatino. Pochi giorni fa, dopo quasi due mesi, il GIP di Ragusa ha fissato l'incidente probatorio. Giovedì prossimo saranno sottoposti a confronto davanti al giudice per le indagini preliminari sia la vittima che il presunto autore dopo il rigetto di una misura cautelare meno afflittiva da parte del riesame di Catania.